Non si è potuto, causa le limitazioni per coronavirus, celebrare quel funerale al quale tutte le persone che conoscevano, stimavano e volevano bene a padre Luciano Pastorello, 76 anni, dei Cappuccini, avrebbero volentieri partecipato. C'è stato comunque all'esterno della chiesa di Lendinara un breve saluto, prima che la salma del sacerdote venisse avviata verso 90 Vicentina, dove riposerà. È stato il coronavirus a portare via il 76enne padre Cappuccino per tanti anni nel convento di Rovigo, che è stato parte attiva dello scautismo rodigino, a partire dagli anni 70 e poi, fino a livello nazionale, per lunghi anni, per poi essere trasferito al convento di Venezia, ricoprendo anche l'incarico di padre provinciale dell'Ordine. Incarichi tutti che ha vissuto con umiltà, con delicatezza, con vera dedizione al servizio, con la sua capacità di comprendere, di rendere semplici e far comprendere le cose difficili agli adulti, ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, con la sua capacità di arrivare al cuore di tutti con dolcezza rara, ha lasciato una scia di bene in chiunque abbia avuto il dono di incontrarlo e che certo mai lo dimenticherà, così la lettera di ricordo degli scout di Rovigo per la morte di padre Luciano, frate ucciso dal virus.